Questa affascinante sportiva può inoltre disporre dal sistema di sospensione Magic Body Control con funzione di inclinazione in curva che rappresenta una premiere a livello mondiale. Ulteriori informazioni tecniche di rilievo sono il display head up e il touch pad. A conferire alla vettura un look ancora più esclusivo i fari LED high performance anteriori che ha richiesta dispongono ciascuno di 47 cristalli Swarovski. Disponibile inizialmente con il V8 biturbo da 4.663 cm3, la S500 Coupé ha una potenza nominale di 455 CV e una coppia massima di 700 Nm. Il sound dell'impianto di scarico regala un'esperienza di guida sportiva. Come la S berlina anche il nuovo Coupé offre sistemi di assistenza alla guida innovativi che lo rendono ancora più confortevole e sicuro. I dispositivi Intelligent Drive di serie per Maximum e AMG comprendono ad esempio il dispositivo frenante pre-safe con riconoscimento dei pedoni, il Distronic Plus con sistema di assistenza allo sterzo e Stop and Go Pilot, il Brake Assist Bass Plus con sistema di assistenza agli incroci, il sistema antisbandamento attivo, il sistema di assistenza baglianti adattivi plus e il sistema di visione notturna Night View Plus. La massima riduzione del fruscio aerodinamico è stato uno degli obiettivi dichiarati dell'attività di sviluppo della classe S Coupé. Già dalla fase di design, gli esperti di aeroacustica si sono dedicati a ricercare la forma perfetta. Per ridurre la rumorosità aerodinamica si è intervenuti inoltre a livello di progettazione della scocca e delle guarnizioni delle portiere. Il risultato è l'auto di serie più silenziosa al mondo. Lo hanno stabilito le misurazioni nella galleria del vento, nelle quali una testa artificiale simula l'orecchio umano e le prove su strada condotte da guidatori addestrati. Per la valutazione del comportamento aeroacustico di una vettura, Mercedes-Benz utilizza un proprio coefficiente testato con numerosi cicli di prova. Oltre alla rumorosità nell'abitacolo, vengono considerate anche grandezze psicoacustiche come l'acutezza del suono e la qualità di articolazione, con prensibilità del parlato in presenza di diversi rumori disturbanti. E così finiamo la puntata numero 25 di Motor News. Noi vi auguriamo un buon estate a tutti e torniamo a produrre le nostre puntate nel mese di settembre. Grazie, arrivederci e sarà al mese di settembre. Grazie. Grazie.